Ciao ragazzi, ho finito. In questo video volevo accordare l'organo di Fino insieme a voi. Ho già messo tutte le placchette di stagno, ho già tagliato tutte le carne in modo che siano leggermente crescenti e ora non perdiamo altro tempo e lo accordiamo così poi sentiamo qualche nota. Incominciamo dal Do. E' leggermente crescente. Perfetto. Andiamo direttamente al Do un'ottava sopra. Sentite il battimento. Quasi perfetto. Un filino. Per ora va bene così. E' leggermente crescente. E' leggermente crescente. Un filino. E' leggermente crescente. Grazie a tutti. L'ho accordato con un corista di 432 Hz e con un temperamento momentaneamente equabile, poi dopo proverò a accordarlo col sistema pitagorico o altri sistemi, dipende poi dal pezzo che suonerò. Direi che ci siamo, sicuramente c'è ancora da rifinire qualcosa, ma sono molto soddisfatto. Benissimo, siamo pronti per fare il primo pezzo. Grazie a tutti. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Come avete sentito, c'è ancora da lavorarci un po', soprattutto nell'intonazione, per renderlo un po' più pulito, però mi sembra molto buono. Anzi, ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi piace. E niente, ci vediamo la prossima volta, direi con l'ultimo video della serie, poi incominciamo ad andare in giro a suonare. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare il like. Ciao!